Mi fa molto piacere di esserci adesso. Ho visto un bel gruppo, un bel gruppo con tanti talenti giovani. Sono anche molto sorpresa positivamente come stanno giocando velocemente, anche in attacco. C'è una grande potenzialità e mi fa molto piacere essere qua. Che Anika Niederviser ritroviamo noi della palla a mano italiana rispetto a cinque anni fa? Com'è stato il tuo percorso di crescita in questi anni? Peccato, ho subito un paio di infortuni abbastanza pesanti, due crociati. Adesso sto andando abbastanza bene, ho qualche dolorino, però pensavo che tutti gli atleti dopo una certa età avranno un po' di dolori. Mi sento abbastanza bene. Parlavamo del gruppo, una squadra molto giovane. Hai già giocato anche nella giornata di ieri un amichevole con questa nazionale perché avete affrontato Teramo. Da un punto di vista di gioco come ti senti, perché chiaramente hai fatto pochi allenamenti con questa squadra, come ti senti integrata, come ti inserirai, se hai parlato con Beppe Tedesco, come ti inserirà poi nel gioco di questa squadra? Sì, mi ho sentito abbastanza bene, devo dire. Beppe Tedesco mi ha già mandato un paio di settimane prima tutti i giochi e i sistemi di gioco, così li potevo già vedere, ho visto qualche video e quello è stato abbastanza semplice. Ovviamente ci vorranno qualche allenamento ancora in più per capirci un po' meglio, però ho visto che hanno subito voglia di partire dalla difesa nell'attacco veloce e questo lo dobbiamo sfruttare. È inutile negare che per l'esperienza che hai accumulato in questi anni sei una giocatrice importante, molto importante per questa nazionale e in generale per il movimento femminile della Palamana italiana. Che cos'è la nazionale, la maglia azzurra per Anika Ninderpiser? No, è un grande onore di esserci e voglio dare la mia esperienza anche agli giovani. Hai ritrovato, è vero lo dicevi bene, tante ragazze giovani, non solo però hai ritrovato anche tante compagnie di squadra con cui hai condiviso esperienze da il capitano, Ilara Dallacosta, Giada Babbo, anche Elena Barani che in questo momento riveste il ruolo di vice allenatrice. Ecco, due parole anche su questo, no? Eh sì, vabbè non è alla fine così tanti, hanno tipo 3-4 ragazze. No, comunque devo dire che mi piace molto come gestisce Ilara anche il ruolo da capitano e no, infatti è divertente anche con Elena come ufficio allenatrice. Slovenia? Eh, la Slovenia c'è una bella squadra, c'è tanti giocatori che giocano in Champions e hanno un sacco di esperienza con un allenatore che ha vinto tanto, punta tanto sulla difesa e c'hanno un pivot, due pivot che sono forti, oltre ai tiratrici. e sì, noi entriamo nel campo, vogliamo disturbarli un po' e poi vediamo che succederà. Grazie. 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 Grazie.